Nel corso della sua quasi ventennale carriera, la destinataria di questo premio ha studiato e analizzato narrative e stili che ci distraggono dalle verità nascoste. Signore e signori, una fonte di ispirazione per tutti noi, Katrin Ravenscroft. Per tutti questi anni, hai nascosto al mondo alcune parti di te stessa. Ha un faro della verità. Una persona che mi ispira ogni singolo giorno. Hai tenuto tutti all'oscuro per mantenere un equilibrio e credi di esserci riuscita. Fino adesso. Che stai facendo? Katrin! Katrin! Lascia a me! Katrin! Lascia! Parla di me! Si dice che il destino bussia alla porta. Non è affatto vero. Il destino non bussa mai a nessuna porta. Il destino non chiede il permesso. si impadronisce senza pietà della tua anima. Doveva provarlo. Doveva soffrire così come avevo sofferto io. non sei stata sincera con noi. L'uomo si è presentato qui con un libro che ha scritto. L'hai molestato e l'hai minacciato. è lui che sta rinacciando me. Steven! So che è il caso come fa a dormire alla morte. Tu non ci meriti. Il mondo deve sapere chi è Katrin Ravenscroft realmente. Dovevo raccontare la verità al mondo. Allora. Tresla! Non soffrire così come l'unico Tresla! Non soffrire così come l'unico e perdonare la verità del contestio. Non soffrire strumentale. E n sape un'unico L'unico